Amore, a San Mart, con quella bella Rietta Salmastra, mi sentirà subito il tuo vandrellone! Ma quando sono sparito, come potevo sapere di lui? Carlo, io ero incinta di sette mesi. Veramente? Ma che mi dici? Ma proprio non ti riesce di chiamarmi papà. Alibrando, papà è difficile. E invece alibrando è facile. Ma quale rimorchiare? Mi devo sposare! Portami subito a letto. Così, d'amblè. Sa cosa diceva mio nonno, Marchese del Casso, eroe della Prima Guerra Mondiale? Ha riporto... Ma che era francese? Ma che te sei innamorato? Ho l'amico mio qua, sei innamorato! Oddio, è lui! Amore, vorrei presentarti una persona. Mentre è neri missionario? Laico. Ah, quindi voi lo potete... Solo la missionaria, classico. La donna sotto e l'uomo sotto. Cosa devo ricordarvi? Era ubriaca. E poi non è successo niente. Qua c'è qualcuno che mi sta a mente in mezzo, io so anche chi è. Marcello, vai via! Bruso! Sono secco! Brink-a-lid, rick-a-lid, rick-a-lid, rick-a-lid!